Una delegazione proveniente dalla Repubblica Ceca, dei tre comuni gemellati con la Valle di Ledro, ieri ha voluto raccogliersi ad Arco attorno al monumento dei legionari uccisi nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nell'occasione è stato piantato un tiglio, simbolo della Repubblica Ceca. Come amministrazione comunale oggi siamo presenti qua al giardino dei via legionari cecoslovacchi. Abbiamo ospitato una delegazione della Repubblica Ceca, sono tre comuni che sono gemellati con la Valle di Ledro e hanno voluto collocare in ricordo dei rapporti che hanno avuto con le terre trentine sia legato alla Grande Guerra con i legionari e anche con i nostri profughi che sono stati alcuni anni durante il conflitto bellico nelle loro zone. E' stato messo a dimora un tiglio che è l'albero simbolo ufficiale della Repubblica Ceca che affiancherà i nostri olivi che sono il simbolo delle nostre terre. Oggi siamo qui davanti al monumento dedicato ai quattro legionari cecoslovacchi che sono stati catturati sul dosalto di Nago nel settembre del 1918 e dopo essendo loro i redentisti, cioè combattevano a fianco degli italiani, degli alpini, sono stati condannati dagli austro-ungarici alla pena di morte per diserzione. Loro combattevano a fianco degli alpini per la libertà e per poter rendere anche la loro patria, appunto la cecoslovacchia allora, libera come l'Italia. Ecco, sono stati impiccati dopo un processo molto, diciamo, sommario, sono stati impiccati qui agli olivi, in questo luogo, e dopo di che, subito dopo, sono stati sepolti lungo il muro di cinta di questo luogo e dopo nel 1919 è stato fatto un monumento nel cimitero di Arco dove sono stati esumati da qui e portati nel cimitero di Arco. Del 1919 sono stati traslati dal cimitero di Arco e sono stati portati nel cimitero di Praga, nel cimitero di Ossani, che è un cimitero, diciamo, storico che raccoglie tutti i legionari cecoslovacchi morti durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, poi, diciamo che poi è stato fatto un altro monumento qui, del 1930-1931 sono stati portati, dato l'allargamento del cimitero di Arco, è stato portato qui, è stato fatto un monumento piccolo, poi del 1937 è stato fatto questo monumento che ancora oggi noi vediamo e con questa, diciamo, maestà abbastanza importante, con questa struttura importante, e la targa, come si vede, è stata portata dalla Repubblica Ceca e la struttura è stata fatta dai nostri italiani, insomma. Nel 1937, poi, con la costruzione del monumento, questo luogo è stato, diciamo, proprio da un degretto del Comune, è stato donato alla Repubblica Ceca. Questo è territorio cieco, diciamo, ecco. Perciò noi, come alpini di Arco, come gruppo alpini, lo teniamo pulito, lo accudiamo e cerchiamo di mantenerlo il più possibile, insomma, pulito, perché siamo accorti che specialmente negli ultimi anni qui, adesso vengono diversi, diciamo, turisti cecolovacchi, si fermano, entrano, si fermano e magari mettono una candela, un cero, un fiore e questo è una buona cosa perché vuol dire che, insomma, questa amicizia che è nata, diciamo, durante la Prima Guerra Mondiale fra gli italiani e i legionari cecolovacchi prosegue e continua, speriamo che addirittura aumenti, insomma, che cresca sempre di più. Come faremo crescere il tiglio che oggi abbiamo messo a dimora qui vicino al monumento.